... Vai vai. Vado io? No, vado io. Di nuovo in onda, quarta e ultima parte della nostra rassegna stampa. Iniziamo subito con una cronaca che troviamo riportata all'interno del sito ilcaffè.tv. Si parla ancora una volta di carte clonate, questa volta però è il turno delle poste pay. Ebbene, per non suscitare sospetti, queste persone prelevavano pochi soldi alla volta. Un'operazione dei carabinieri a Serramanna, a seguito di numerose clonazioni di carte di credito poste pay, è stata notificata. Le indagini sono iniziate nel novembre 2013 in seguito alla denuncia di un cittadino. In seguito se ne sono aggiunti molti altri, fino alla denuncia da parte dei militari di due persone residenti a Potenza, di cui un originario di Latina. I due hanno carpito i dati anagrafici e i documenti di riconoscimento di soggetti inconsapevoli ed hanno effettuato prelievi online, sempre di piccola entità, per non destare grande attenzione nei possessori più distratti, trasferendo i soldi su almeno tre conti correnti, su un sito di scommesse online su cui sono stati accertati i movimenti per 3.000 euro, per poter riciclare le somme e farne perdere le tracce, effettuavano tra di loro giocate a poker nella modalità cash, tentando di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita delle stesse. Le vincite venivano poi fatte confluire sui conti correnti di gioco a loro intestati e dopo aver ricevuto le somme di denaro pulito, lo riversavano su poste pay a loro intestate, prelevando il denaro in diversi uffici postali, riuscendo così ad appropriarsi di circa 13.000 euro. I due indagati, un 53enne originario di Latina e un 23enne della provincia di Matera, entrambi residenti a Potenza, sono stati denunciati per riciclaggio ed indebito utilizzo di carte di credito e sono state accertate 23 persone vittime delle clonazioni, che nel frattempo sono state indirizzate dai militari sulle procedure da attuare per il blocco delle carte e il recupero delle somme tramite le proprie banche. Ancora con la cronaca, questa volta però da Anzio, la madre non può pagargli il tatuaggio, lui cerca di far saltare in aria, casa. I genitori non hanno i soldi per pagargli questo benedetto tatuaggio, lui dà in escandescenza, protagonista della vicenda, un giovane di Anzio che dopo aver ricevuto il no è andato su tutte le furie. Ha minacciato mamma e papà con un coltello, aggredendo la madre, ed ha aperto la bombola a gas, rischiando di far saltare in aria tutta casa. I carabinieri intervenuti hanno tratto in arresto il 22enne con l'accusa di tentata estorsione e quindi poteva finire veramente male, fortunatamente però non è stato così. E rimaniamo sempre sul litorale per una notizia che avevamo visto in apertura, con i titoli in prima pagina, l'andiamo ad approfondire perché riguarda come ostia anche altre località marine e anche a ridosso dell'estate se ne parla ancora più ampiamente allarme per le spiagge, mancano progetti comuni. L'assenza e l'inefficienza della pubblica amministrazione come le carenze degli imprenditori balneari condannano lo sviluppo del nostro litorale. Questo il duro intervento di Fabrizio Fumagalli, presidente del Sib Lazio, il sindacato italiano balneari che ieri è stato acceso protagonista di un incontro allo stabilimento Orbinati di Ostia dove si è parlato proprio di ripascimento fra gli ospiti. Oltre a diversi imprenditori balneari c'era il capogruppo del PD in comune Francesco D'Ausilio. L'appuntamento è stato l'occasione per il Sib per denunciare la mancanza di un progetto unitario ed efficace di ricostruzione della costa. L'associazione parla semmai di un diffuso fai-da-te che partorirebbe più danni che soluzioni. Siamo qui, dice Fumagalli, per denunciare il mancato rispetto della legge regionale del 1998 e del protocollo d'intesa per la ricostruzione e la difesa del litorale di Ostia da parte della Regione Lazio, del Comune e dei balneari. Il Sib chiede spiegazioni sulla realizzazione di due pennelli a difesa dello stabilimento La Conchiglia e che starebbero creando un'accelerazione dell'erosione della spiaggia degli stabilimenti Urbinati e Salus. Quindi starebbero danneggiando e creando proprio l'effetto opposto sulla spiaggia. L'associazione dei balneari, una delle tre in cui si riuniscono gli stabilimenti di Ostia, sottolinea come l'ultimo dragaggio del canale dei pescatori abbia danneggiato le spiagge sotto flutto comprese tra il Med e il Venezia. Chiediamo, conclude il Presidente del Sib Lazio, che si individuino le responsabilità di chi ha autorizzato questi due interventi ad approfittare dell'incontro per sostenere la necessità di una ripresa della collaborazione fra Regione Comune e imprenditori del mare. È stato invece il Capogruppo Comunale d'Ausilio. È necessario affidare la programmazione dei lavori all'Ardis senza dimenticare che la collaborazione con i concessionari è fondamentale. A proposito di quello che il Sib definisce fai da te, d'Ausilio ha anticipato la Regione Lazio sta predisponendo un provvedimento per l'approvazione del regolamento per gli autoripascimenti ed è stato già giudicato un appalto per un intervento a Ostia Levante per 5 milioni di euro. Promuoverò un tavolo di lavoro con tutte le parti interessate. Questi i provvedimenti al momento vagliati e che probabilmente verranno poi messi in campo per fronteggiare questa situazione e cercare di risolvere nel più breve tempo possibile la problematica dell'erosione delle spiagge. Torniamo quindi sul web per un'altra notizia. Alessandro. Sì Giulia, andiamo a dare un'occhiata a cosa sta accadendo ad Anzio sulla situazione IMSS. Sembra non essere più sostenibile il problema che si è verificato in questi ultimi tempi. È stato richiesto infatti al sindaco di Anzio un incontro con la direzione dell'IMS per definire una volta per tutte quale debba essere la situazione finale. Ad avanzare la proposta il gruppo consigliare sinistra per chiavetta che denuncia i servizi resi attualmente dalla sede IMSS sono sempre di meno e troppo spesso si risolvono in poche informazioni allo sportello o con il consiglio di rivolgersi ad una sede sindacale di patronato. Infatti oramai la sede di Anzio non è più un'agenzia ma semplicemente uno sportello avanzato della sede di Pomezia e dipende per la liquidazione della maggior parte delle prestazioni da altre sedi. Ancora più complicata la situazione per le pratiche di invalidità o le pensioni. Non esiste una sede designata a lavorare questa tipologia di prestazione. Infatti mensilmente la direzione regionale stabilisce quale sede se ne dovrà occupare creando confusione agli interessati e agli enti di patronato che non sanno dove rintracciare una determinata pratica per districcare l'eventuale problematica che sorge in fase distruttoria. E si attende ora una risposta del sindaco. Un sindaco che invece qualche risposta l'ha data recentemente è Alessio Chiavetta da Nettuno il quale ha chiesto scusa per i ritardi ai lavori di Piazzale Berlinguer dove la società Parcoi realizzerà un parcheggio multipiano. L'occasione è stata il Consiglio Comunale Monotematico convocato dall'opposizione. Non posso scendere sul piano di un'opposizione che non intende chiaramente preoccuparsi di problemi reali della città ma che in controtendenza al tentativo di un'Italia che tenta di risolvere le lungaggini burocratiche non sa fare altro che allungare e ingrandire i tanti passaggi burocratici che un tale progetto comporta, ha spiegato Chiavetta. In questa assise ci sono persone che prima di me hanno parlato di progetti rivoluzionari per la città. Il tutto per vincere le elezioni e iniziare una carriera politica che va avanti da oltre 30 anni. Peccato però che l'impegno e la responsabilità a iniziare questi progetti non se la sia poi presa mai nessuno. Noi abbiamo voluto e io in prima persona mi sono preso l'impegno e la responsabilità di realizzare questo progetto che rivoluzionerà il centro della nostra città portando nuova linfa a tanti settori soprattutto a quello turistico e commerciale. Ci sono stati problemi, sono stati fatti dei piccoli errori ma soltanto chi parla e non fa nulla non sbaglia mai. Mi scuso, mi scuso con tutti i cittadini e per tutti i problemi che tale cantiere ha creato ma siamo giunti quasi al termine dei disagi necessari per raggiungere un importante traguardo. Da Nettuno a Pomezia una notizia di cronaca accaduta questa mattina. Stava attraversando sulle strisce pedonali con lo zaino in spalla quando è stato investito. Il conducente del mezzo che ha mandato all'ospedale un ragazzo di soli 15 anni è fuggito senza prestare soccorso. La vicenda è accaduta alle ore 8 in via Fratelli Bagniera. Il ragazzo stava percorrendo la strada per recarsi al liceo Pascal poco vicino. Nell'impatto è stato scaraventato a terra a prestare i primi soccorsi alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Il 15enne è stato trasportato alla clinica Sant'Anna dove si trova tuttora ricoverato mentre si sta ancora cercando il pirata della strada. Come vedete questa notizia è riportata anche sul Corriere della città dove si aggiunge che Lorenzo il piccolo è stato soccorso da alcuni passanti ma la macchina investitrice di colore blu era oramai lontana. Si trova ora al pronto soccorso mentre si stanno cercando testimoni che possano dare indicazioni utili per ritrovare questo pirata della strada e Lorenzo al momento dell'incidente era vestito con un paio di pantaloni corti neri con bordi gialli, un giubbotto blu con strisce bianche e bordi rossi e scarpe bianche. Portava uno zaino sulla spalla di un altro zainetto in mano e quindi chiunque abbia assistito all'incidente si può mettere in contatto con la redazione del Corriere della città o con qualsiasi altra testata di stampa che può dare una mano nel raccogliere queste importanti segnalazioni. Hai parlato di Anzio prima Alessandro, Anzio che ritroviamo in primo piano anche su Latina Oggi per questione tutte interne alla politica con un sindaco Luciano Bruschini che viene messo addirittura all'angolo, così si può leggere direttamente da Latina Oggi stop agli sprechi, la guerra del PD, Anzio il duro attacco al sindaco Bruschini chiesti tagli coraggiosi alla politica. L'accusa è proprio quella di una politica a debito per accontentare le clientele, una lotta senza quartiere tra maggioranza e opposizione sui conti pubblici. Il PD annuncia la battaglia sugli sprechi e il clientelismo. La notizia l'abbiamo già vista dal web riguarda appunto lo sportello IMSS con le parole di Alessio Chiavetta che lo ha definito inutile. Poi rimanendo sempre ad Anzio invece riapre l'ufficio anagrafe con un comune piuttosto soddisfatto per la riapertura. C'è anche il porta a porta e le isole ecologiche con l'assessore Placidi che fa il punto sulla situazione e poi si passa ad Ardea con l'incidente mortale di lunedì sera all'altezza del piadotto in via di Vallecaia. Abbiamo visto la notizia anche in prima pagina con il tragico volo nella Scarpata perdere la vita. Un 31enne di origine romena finito fuori strada con l'auto. Qui vedete le immagini dei primi soccorsi. Rimanendo sempre nella città Rutula una questione di cui da tempo si parla e che tante polemiche ha generato. Sono state interdette le torri. Il provvedimento dopo le ispezioni di forze dell'ordine e istituzioni con il sindaco Di Fiori che parla di un lavoro durato alcuni mesi. Appunto si è pronunciato a seguito dell'emissione dell'ordinanza nelle scorse ore sull'inaccessibilità del complesso Le Torri di Nuova California a Tor San Lorenzo. Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo con un lavoro che ha tenuto costantemente impegnati gli uffici dell'ente per diversi mesi. Abbiamo realizzato un tavolo di lavoro operativo tra noi, la banca, il custode giudiziario, il giudice dell'esecuzione immobiliare, le forze dell'ordine e le altre istituzioni coinvolte. Lo scorso 31 gennaio abbiamo fatto un sopralluogo con il quale abbiamo riscontrato il permanere nell'aggravarsi di criticità che hanno costituito per lungo tempo un allarme igienico-sanitario, un degrado socio-economico degli occupanti così come un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana. E' un motivo di forte disagio circa la percezione della sicurezza di tutto il quartiere Nuova California. Abbiamo ottenuto tutte le relazioni da parte del commissario di Polizia di Stato, della Polizia Locale, della Compagnia di Anzio, della ASL RMH che ci hanno permesso così di emettere finalmente quell'ordinanza che i cittadini ci richiedevano ormai da tantissimo tempo. Vediamo poi come si evolverà, come continuerà ad evolversi anche la situazione. Parlando sempre di illegalità e rimanendo sul territorio di Ardea e Torsalorenzo, un'altra notizia che arriva direttamente dal web. Sì, Giulia, ci erano arrivate in effetti ieri alcune segnalazioni che si sono poi tramutate in una notizia. E' iniziata l'altra bonifica delle salzare. Ieri agenti della Polizia Municipale e Carabinieri hanno infatti sottoposto a chiusura una vetreria, un'attività artigianale che veniva svolta in manufatto non regolarizzato urbanisticamente da anni attiva su Via Laurentina. Sembra quindi essere stata imboccata la strada di non ritorno per i controlli sulle attività commerciali nei 706 ettari demagnali delle salzare. L'intervento della Municipale, coadiuvata dai Carabinieri della locale tenenza, sembra essere avvenuto a seguito dell'interrogazione del consigliere Umberto Tantari e dei precedenti controlli eseguiti sempre dalla Municipale e dai Carabinieri. del problema delle attività svolte in manufatti abusivi come previsto dall'articolo 25 del DPR 380-01 non è possibile avere l'agibilità urbanistica fino a quando non verrà rilasciato il permesso a costruire in sanatoria. Si sta discutendo da tempo ma finora nessun provvedimento era mai stato preso. Grande il disappunto dell'artigiano che come richiesto dal Comune di Arde aveva presentato attraverso un tecnico i documenti per poter regolarizzare la sua attività così come fatto anche dai titolari di molte altre attività della zona che oramai non potranno più evitare la chiusura. Il tecnico che si è occupato dell'invio dei documenti sentito telefonicamente ha detto non si capisce come si sia potuto arrivare alla chiusura amministrativa dal momento che abbiamo presentato quanto richiesto dall'amministrazione comunale e non si capisce come mai questo provvedimento abbia colpito il mio cliente mentre nel contempo sono state inaugurate solo pochi giorni fa altre attività ai cui i titolari hanno presentato la stessa documentazione. L'attività di controllo e chiusura era per ora mai d'obbligo soprattutto dopo tutti i fatti criminosi accaduti a chi rispetto a questo argomento ha sempre voluto andare a fondo continuando a sollecitare interventi decisi. Oramai non si poteva più ignorare lo stato di illegalità legato alla mancanza di permessi ed è quindi scattata questa operazione che ha portato alla chiusura della vetreria ma che potrebbe riguardare anche altre attività su quel territorio. Si potrebbe creare quindi un precedente dar seguito ad altre chiusure di altri esercizi commerciali che non avessero la documentazione come quello in questione. Noi ci fermiamo e chiudiamo qui questa edizione della nostra rassegna stampa. Un ringraziamento a voi per averci seguiti ancora una volta e ad Alessandro per tutti gli aggiornamenti dal web. Grazie anche a te Giulia e allora come hai bene ricordato l'appuntamento è fissato per domani mattina alla solita ora. Grazie e arrivederci. Arrivederci. Grazie.